ciao a tutti amici sono mari allora cominciamo questo video puntando sul colore azzurro su colori più scuri perché l'intenzione è praticamente creare un bouquet di fiori per poi andarlo a schiarire a come faccio io a dare le velature con la gouache bianca o se le vogliamo ancora più leggere con l'acquerello bianco di solito comunque uso la gouache bianca quindi stiamo vedendo come piano piano sto creando il bouquet parto solitamente parto dal nucleo per poi andare avanti e unire insomma tutti i fiori che dipingo dare le ombre anche se si inizia sempre con una base quindi anche sì sempre colori accesi comunque perché avevo deciso di di fare questo perché era da un po che non mi divertivo un po con la gouache che dà anche lei degli effetti particolari solamente che a un certo punto io mi sono accorta che in sorte un problemino qui ancora non non ci siamo nel senso che in sorte un po un problemino ossia anche se scurendo perché più più si scurisce il disegno e più la gouache risalta perché la gouache bianca se messa in acqua è diluita comunque prende come la si passa prende il colore del fiore che si sta dipingendo ripassando del fiore già acquerellato quindi io ho calcato molto per avere comunque questi effetti ecco vediamo appunto come me la sono sbrigata se tamponi poi hai anche un po l'effetto nuvola un po più chiaro puoi lasciare i bordi un po più scuri puoi dare dei punti luci qui ho usato una beauty blender per esempio perché non l'avevo mai usata per per fare queste queste prove e devo dire che non mi ha assolutamente deluso quindi penso che la userò anche in futuro quindi alcuni li ho alcuni fiori li ho ripassati mettendo in evidenza i petali altri li ho ripassati insomma ci sono passata proprio sopra con la beauty blender che può essere utile anche per chi disegna nuvole e quant'altro e qui sono cominciati i problemi perché perché volevo dare un tocco di colore in più il monocromatico non mi piaceva quindi ho pensato di cambiare un po i colori dei fiori e hanno e li ho colorati con un con un rosa con un color carne poi li ho ripassati perché insomma il disegno stava prendendo il dipinto stava prendendo davvero una brutta piega e io non volevo siccome c'è qui non si vede ovviamente però ci sono stata tanto tempo sopra non volevo assolutamente buttarlo e da qui che forse questo è stato veramente il mio primo cerchio fatto col pennello ecco eccolo qua è questo perché sto usando una mano e poi dopo ho detto adesso mischio i colori facendo i cerchi col pennello ecco qui ho ricavato questi effetti perché sotto c'erano tutti gli altri colori ed ecco con l'acquerello quando vai a dilavare si manifestano tutti i colori che c'erano sotto quindi alla fine è venuto fuori questo magnifico bucchè colorato e mi è piaciuto davvero tantissimo quindi spero anche a voi amici spero che possiate fare delle prove in modo tale da divertirvi io vi ringrazio per avermi guardata quella era la mia gattina susi ve la volevo presentare noi ci vediamo nel prossimo video e vi mando un bacio grande ciao a tutti